Ed eccoci nel giardino del Palazzo Venezia. Il Palazzo Venezia è del 1400 donato dal re Ladislao d'Angio alla Repubblica di Venezia perché i consoli avessero una residenza. E però questo invece è il giardino del 1800, è stato costruito e qui prima di questo periodo poeti, scrittori come Benedetto Croce hanno scritto e venivano qui semplicemente come per studiare, per leggere e per lavorare ai loro capolavori. Invece questa è la Casina Pompeiana che coeva al giardino meraviglioso, la Casina Pompeiana dove potete sentire il dolce suono di un pianoforte. Sono di ragazzi del conservatorio che stanno provando. Invece questa è la Casina Pompeiana.